Duro colpo alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli. Indagini serrate hanno portato i militari ad effettuare un blitz in una villetta di Castelvolturno, nel Casertano. A finire in manette, due incensurate apparentemente insospettabili, madre e figlia di 65 e 49 anni. I carabinieri, dopo diverse ore di ricerche, hanno rimvenuto, nascosti in più parte dell'abitazione, un totale di 560 kg di hashish. La droga, suddivisa in panetti, avrebbe fruttato un profitto pari a non meno di 3 milioni di euro nella vendita al dettaglio. L'hashish era stata nascosta all'interno di bustoni di plastica con chiusura lampo, ma questo non ha evitato che la casa fosse perbasa dal forte odore. Le due donne, originarie di Napoli ma domiciliate nella provincia di Caserta, sono state condotte in manette nel carcere di Pozzuoli, dove resteranno a disposizione delle autorità.